Lezione 3, la canna da pesca Ok, il gioco, ha detto lui prima, il cane è un predatore Dai 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 Il cane è un predatore, il gioco non può andare verso il cane Il gioco è una lepre, la lepre scappa dal cane Quando scappa, Riccio si interessa Seduto non c'entra niente, stiamo lavorando al tartufo perché devi rompere i coglioni col seduto Non ha senso Ok, visto, visto, se il vostro accio scappa, Riccio è contento Riccio gioca in predazione Non c'entra Puoi lavorarlo in un'altra sessione, non è che i cani non devono sedersi Possiamo far sedere i cani e lavoriamo a parte, non col tartufo A presto